ti prego concretizza questa strada non è veramente tardi e non aver paura del buongiorno 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 a te come stai bene dai si fa si va dove vai per la strada della vita è giusto allora daniela guarda facciamo iniziamo subito subito a bomba a mischiare le carte allora daniela dammi cortesemente tre numeri da 1 a 22 ok allora 15 7 e 21 perfetto una donna che sta male una bella donna vedo una donna molto convinta di sé fuori dentro una donna che sta male perché perché il passaggio dalla prima alla seconda carta mi sta dicendo che tu hai una spinta provieni da una spinta passata a voler concretizzare qualcosa di veramente tuo qualcosa che ti appartenesse più di un lavoro una vocazione la prima carta è la vocazione ma purtroppo no non l'hai fatto non l'hai fatto perché sei stata legata a determinati schemi tu sei vittima degli schemi in generale nella tua vita schemi significa cose che ti impongono di fare ma probabilmente da quando sei piccola da quando sei bambina e questa cosa si è riversata su tanti ambiti di vita a livello relazionale quando parlo di relazioni ricordati che non è semplicemente l'amore possono essere anche le amicizie o le conoscenze e a livello lavorativo quindi fare qualcosa che comunque non mi appartiene però mi hanno detto di farla e quindi la faccio dico una cosa se vuoi mi fermi però la devo dire subisci un po il potere sei schiava del potere ma perché probabilmente essere schiava del potere ti ha condotto a un tipo di realizzazione più sociale che interiore e quindi questa cosa te la tieni ti ha caratterizzato a un certo punto però daniela si sveglia forse un po tardi sui tempi però non è mai tardi e daniela si sveglia dici oh ma io forse non è che devo fare qualcos'altro però fare questo qualcos'altro andrebbe a stravolgere completamente la mia vita non so se quale carte mi stanno dicendo che ti mancherebbe il supporto economico per fare questo stravolgimento oppure se è un discorso per il quale tu hai un grande punto interrogativo se questo stravolgimento supporta il tuo lato economico questa sarebbe la seconda e la terza carta però vuoi fare senti di fare questa cosa la risposta del tarocco è ti prego concretizza questa strada non è veramente tardi e non aver paura dell'aspetto materiale perché quello lo riesce ad appianare però nel tempo punto due prima e seconda carta parla di quello che fai però cioè non puoi aspettare che dicendo mezza bocca oppure facendo intuire che tu vuoi fare qualcos'altro calamiti verso di te un discorso veramente di abbondanza materiale forse di soddisfazione ma non di abbondanza mettici la faccia questo metterci la faccia recide i legami col passato quindi significa effettivamente abbandonare una strada vecchia che non ti appartiene più ma significa abbracciare un futuro che veramente ti appartiene ora cortesemente ti chiedo daniela perché io sono partito da zero meno di zero non c'è nemmeno una domanda se quello che ti sto dicendo risuona ha un senso per te oppure francesco mi ha detto solo una serie di stupidate no mi hai letto proprio nel pensiero e sembrava quasi fossi qui ogni giorno vicino a me a vedere quello che stava accadendo dimmi un pochettino meglio ovviamente nella misura in cui puoi dirmi perché non mi piacciono molto queste carte nel senso che mi sembra che sei un po' obbligata a non dire cose non vorrei quindi mettere il ditino in qualche crearti delle problematiche se puoi dirmi qualcosa di più sentiti libera ora di dirmi sempre in relazione a ciò che ti ho detto io sì in merito al mio passato è stato così avevo avuto altre idee ma poi sono sempre stata molto castigata e quindi ho seguito quello che era la facciata in qualche modo che ho dovuto mantenere per poter vivere insomma ad oggi il mio limite è proprio metterci la faccia a seguito di sicuramente una forma mia di insicurezza che si è creata nel tempo ma è anche perché ancora ho un piede in una situazione che è molto rigida quindi non mi permette di portare avanti come molti spesso fanno due strade a un certo punto mollano la vecchia iniziano la nuova quindi io purtroppo devo portare avanti queste due strade in ombra perché dall'altra parte potrebbero esserci delle rivendicazioni o quant'altro quindi il mio problema è proprio quello c'è la voglia di chiudere con quel passato però l'aspetto appunto economico non è da sottovalutare perché il lavoro che mi ha fatto vivere fino ad oggi e iniziare un percorso nuovo da nuovo come giustamente dici tu ti devi fare conoscere quindi all'inizio ci sarà della magrezza ecco non ci sarà una tranquillità e io anche questa tranquillità economica per me è comunque necessaria perché insomma non ho delle grandi basi su cui poter far fronte quindi sì due aspetti due aspetti in questa canalizzazione il primo è verità te lo sto ripetendo non puoi esplodere con il secondo se non lasci il primo completamente quindi non puoi fare tipo il carbonaro della situazione a farlo un po sommesso e nascosto se quello che accadrà è una tua diaspora di risorse energia e anche convinzione che non ti porterà niente quindi la scelta deve essere fatta e c'è un secondo aspetto se ti interessa tanto la parte no ti interessa tanto ho detto stavo per dire una cosa brutta visto che dobbiamo dare importanza alla parte materiale perché voglio dire tutti dobbiamo vivere in qualche modo cerca di creare una sinergia con altre persone il che non significa ti faccio un esempio pratico a volte magari le persone vogliono trasformare una loro idea in qualcosa di più imprenditoriale quindi per loro sinergia può essere chi mi fa il sito internet oppure che non è questo quello che ti viene richiesto mi sembra che tu devi stare in un team di lavoro in un gruppo di lavoro seppur è qualcosa che appartiene a te seppure qualcosa è una materia tua ma devi farlo un pochettino con persone anche creative che ti stanno dietro che create un certo team una certa squadra che condividete determinate cose questo è il secondo aspetto che ti porterebbe a una quadratura materiale correggerai anche un piccolo pezzo tu mi hai parlato di magrezza no non vedo un senso di magrezza vedo un faccio quadrare i conti magari c'ho sempre il oh mio dio ma ce la farò però i conti quadrano e questo è un po' un senso che ti accompagnerà un pochettino per un po ma lì perdonami se ti dico è anche un tuo modo di vedere la materia perché mi sembra che questa materia te ti uccide la consapevolezza l'idea della materia ma poi effettivamente dov'è il problema non c'è il problema non si pone in essere il problema è un modo di vedere la materia ok ok no ma sul fatto del team mi ci ritrovo perché poi sono anche dentro a un network marketing quindi ok inerente poi al mio interesse al mio percorso e e anche qui sto cercando appunto di trovarmi quelle basi che intanto mi permetteranno oltre che di farmi conoscere anche di creare quella stabilità per poter anche fare altri passi ecco perfetto spingi così il discorso della materia io purtroppo sono cresciuta in una famiglia sempre dove si viveva sempre con l'acqua alla gola e quindi è vero ormai è nato in me sembra come che ma non perché io sia una anzi sono una che se potessi donere il mondo infatti spesso le mie prestazioni sono gratuite ok ma fa fantastico come inizio è bellissimo questo però è l'amica è quella che ne ha bisogno mi 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 stringe il cuore quindi dico no ma dai guarda vieni te lo faccio così insomma quindi per dire io non è che sono attaccata ai soldi io solo ho la necessità di sapere che nelle cose essenziali posso stare tranquilla perché ho vissuto momenti di grande difficoltà ecco questo era solo certo certo poi per dire per il resto non ho una gran materialità da dire proprio un fagocitare beni o accumulare no guarda non c'è altro è proprio vero c'è una ricchezza nella povertà che ricco non conoscerà mai io di questa cosa ne sono ne sono convintissimo la strada è questa mia cara quindi se questo era il tuo dubbio vado vai con convinzione ma vai va bene ti ringrazio infinitamente è stato veramente illuminante sei sempre veramente bravissimo ti abbraccio a presto ciao